Ciao ragazzi, buona domenica e benvenuti in questo nuovo video di questa mattina Io il ragazzo registro è sempre alle 7 e poi questo video lo pubblico più tardi Allora ragazzi, le notizie che vorrei darvi oggi sono delle conferme di acquisti al 90% sicuri della Juventus a centrocampo Posizione dove a noi ci serve maggiormente Allora ragazzi, sono due giocatori Sono Douglas Ruiz e Coop Miners Partiamo da Douglas Ruiz Ora l'operazione diventa possibile di portare Douglas Ruiz alla Juventus Perché c'è questa penalizzazione che dovrebbe subire Aston Villa Stando a quando viene riportato dell'indiscazione Adesso si farebbe succedere su Douglas Ruiz Il suo club, la Aston Villa, è obbligato a fare un sacrificio sul mercato per via del fair play finanziario E adesso l'opzione dello scambio con McKennie sembra più che concreta, sembra mai fatta Si era già parlato di questa suggestione che in questo momento è più viva Che mai McKennie, già reduci da un'esperienza in Premier con i World Ramp Tornerebbe nel campionato inglese per giocare a Aston Villa E dall'altra parte il barresiliano Douglas Ruiz Sarebbe il nuovo centrocampista ideale per Tiago Motta Sempre che venga Tiago Motta Douglas Ruiz, si legge sempre nel quotidiano sportivo Potrebbe già arrivare entro e non oltre alla fine del mese E sarebbe quindi il primo grande regalo per Tiago Motta Che, ricordiamolo, ragazzi, chi vi viene detto Verrà ufficializzato domani Quindi lunedì mattina dovrebbe essere la comunicazione ufficiale Invece per quanto concerne altri obiettivi Il nome del brasiliano non è l'unico potenziale acquisto del reparto Come se vince dall'indiscrezione, come si sa già da tempo Potrebbe esserci già una piccola rivoluzione in mediana L'obiettivo, oltre al brasiliano, rimane il primario Cioè l'arrivo di Cup Miners L'olandese dell'Atalanta, il profilo è capace di fare un vero Il proprio upgrade del settore Ok? Ve lo andate a leggere qua C'è anche un'indiscrezione di Erfaina Damiano Dice l'operazione per rinforzare il centrocampo della Juve Sta procedendo da gonfie vele Quanto affermato da Damiano Erfaina Ten Cup Miners Ha trovato l'accordo totale con i bianconeri Dal tondra non era mai in dubbio La volontà del cacciatore di lasciare l'Atalanta E trasferirsi a Torino Sponda Juventus E certo non voleva E anche l'Atalanta non voleva però perdere un giocatore Il trequartista capace di fare 12 gol e 5 assist Non solo in serie A Quindi ragazzi Allora che dire Se dovessero arrivare questi rinforzi Io sono veramente contento Perché Si potrebbe fare Visto che ormai Fagioli Facendo i scongiuri È Attivo È abile a giocare In senso non va più con la squalifica Che l'ha scontata Se ci fosse ragazzi un centrocampo A due centrali Con fagioli E Dare la soluzione Ragazzi saremo A A bomba Centrocampo Due centrali E Kupmaners Farebbe Un trequartista Quindi Sarebbe anche Una persona Diamo Adatta Perché Come giocava l'Atalanta Ragazzi faceva degli assist Passava a palle Agli attaccanti In maniera molto Ma molto Promettente Un giocatore molto affidabile E quindi ragazzi Se Riusciremo Riuscissimo A Togliere dal centrocampo Un titolare Come Locatelli Sarebbe ragazzi Una cosa veramente Fantastica Io perché Locatelli In campo Non ce lo voglio vedere più Ok Perché poi Potremmo avere centrali Anche Rabiot Però Rabiot Gioca molto più esterno Quindi con due esterni Laterali Molto Molto Offensivi Perché Kupmaners È molto offensivo E per me Se Rabiot Fai il Rabiot È anche molto Lui offensivo Riesce ad andare In profondità Quindi ragazzi Per me Il centrocampo Sarebbe a posto Ovvio Abbiamo 5 competizioni Servono sempre Altri rinforzi Abbiamo questo Locatelli Che potrebbe essere così Poi Comunque Riguardo L'opzione Di L'operazione Kupmaners Molto probabilmente L'Atalanta È disposta A non volere Solo cash Tanto la volontà Del giocatore È andare via Tenersi un giocatore Che vuole andare via Non è mai È sempre controproducente Per una squadra Ha detto Invece che valere 60 milioni Cash È disposta A scendere A 40 milioni Più Un giocatore Che sarebbe Uisen Quindi L'Aventus Riuscirebbe Per meno soldi Deve dare Questo giocatore Giovane Che è molto promettente Un difensore Però Si potrebbe fare Questo sacrificio Anto ragazzi Dobbiamo cercare Di vendere Vendere Diversi giocatori Che ci fanno Levitare Gli ingaggi E Il cartellino Quindi Cercare di vendere Giocatori Che ci danno Meno un po' Di respiro Anche se poi Si sa Che i giocatori Migliori Che dovrebbero Rimanere Potrebbero andare via Mi riferisco Sempre a chiesa Mi riferisco A Bremer Che sono due giocatori Di cui io Non mi priverei Mai Poi Chi c'è Potrebbe uscire Chesni Che lui Anche lui Ha un ingaggio Importante Si potrebbe risparmiare Dei soldi Tenendosi Di Gregorio Perin Che costerebbero Molto ma molto meno Anche se poi Chesni Non vuole andare via Comunque Comunque Sembra che Il centrocampo Stia prendendo forma Con questi due innesti Importanti Douglas Luiz E Coop Miners Sarebbero Già un buon Centrocampo Con facioli Con rabbiò Se poi ci vogliamo mettere pure Cambiaso Sulla fascia Dovremmo anche In panchina Avremo anche Nicolussi Caviglia Che non è male Quindi ragazzi Potremmo fare Una buona Un buon centrocampo E dovremmo Per me Aggiustare Qualcosa In difesa Perché Per me Ormai Danilo Non è più Efficiente Per me L'unico anno Buono che ha fatto Forse è stato L'anno scorso L'anno scorso Forse l'anno prima Ragazzi Ma quest'anno Ragazzi È stato Veramente Sotto la sufficienza Ok Che è il nostro capitano Però Ormai Non è mai stato Eccelso Infatti anche Quando noi L'abbiamo preso Tra lo scambio Con un cansello Dico Mamma mia Che abbiamo preso Poi Si è un po' rifatto Per lo meno C'è la grinta Quello che è Abbono Lui ha la grinta Però Oltre alla grinta Ci vuole anche Un po' di Saper giocare a calcio E quest'anno È stato Veramente Insufficiente Per me Bremer Deve essere Il pilastro Che poi Lui Molto Più abile A giocare a tre Tiago Tiago Motta Voglio giocare a quattro Però Se vuole Tenere Bremer Quindi bisogna vedere Se veramente Teniamo Tiago Se veramente Teniamo Bremer E quindi Bremer Se deve adattare A giocare a quattro Se mette Un altro centrale Forte Tipo un Calafiori Allora Forse Potrebbero Potrebbe essere Buono Comunque ragazzi Notizie di questa mattina È che Dragla Suiz E Coop Miners Più Dragla Suiz Sono Molto più vicini Alla Juventus E Entro Entro Oggi Sono il 9 giugno Entro il 14 di giugno Quando iniziano Gli europei Una delle due notizie Dovrebbe essere Già confermata Con addirittura La firma Del nuovo allenatore Che Stando Quando Detto qua Domani Arriva la firma Di Tiago Motta Ragazzi Fatemi sapere Qui sotto Cosa ne pensate Se questi giocatori Vi piacciono Come voi Mettereste in campo Mettete like Commentate Condividete E ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ciao ciao